Parliamo di Gioca Torino, al quinto appuntamento, a che gioco giochiamo? Gioca Torino è una manifestazione ludica che cresce di anno in anno, creata da giocatori per i giocatori, senza alcun fine di lucro. L'ingresso è gratuito ed è aperto tra l'altro a tutti, il tutto all'interno di uno spazio, una location davvero accogliente, il centro commerciale 8 Galleri di Torino. L'obiettivo principale è quello di avvicinare anche il grande pubblico dai giovanissimi agli adulti. Ai microfoni della collega Clara Vercelli, Paola Migliotti, comitato organizzatore di Gioca Torino. Effettivamente siamo agli sgoccioli, mentre io sono qua a parlare con voi, i miei colleghi sono già all'ingotto ad allestire la location, per cui ancora poche ore, da domani mattina alle ore 12, sabato 24 novembre fino alle 20 di domenica 25, vi aspettiamo numerosissimi al nostro evento, Gioca Torino 2012, la quinta edizione del weekend ludico più divertente che si propone qua a Torino. Avremo a disposizione ben 300 tavoli e 1500 sedie per farvi giocare, accomodare e divertire con noi. Tra l'altro in crescita rispetto all'anno scorso, con tante proposte e novità. Avremo come sempre la ludoteca dei grandi, che è un po' il fulcro della manifestazione, quindi più di 300 giochi da tavolo a disposizione, con dimostratori che vi spiegheranno le regole e vi faranno sicuramente divertire. C'è un'ampia area dedicata ai bambini, con l'area della ludoteca dei piccoli, per i giochi da tavolo per i bambini dai 3 ai 6-7 anni, e invece un'area molto più ampia per giocare sempre per i bambini in modo più, diciamo, movimentato, quindi giochi di abilità, giochi all'aperto, giochi un po' di equilibrio, e che sono proposte dai ludobus, dei quali uno arriverà perfino dalla Francia. Avremo spazio anche per i tornei, quindi le competizioni, per tutti i giocatori di giochi di carte collezionabili, come Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, ma anche tornei di giochi da tavolo, quindi tanti premi e coppe in palio. Inoltre, chiaramente, avremo anche la possibilità di giocare con degli autori, ci saranno alcuni tra i più famosi autori italiani di giochi da tavolo, che saranno a disposizione per sfidarli e farsi raccontare qualche chicca inerente alle loro novità. Tutto questo, ovviamente, gratuito, all'Otto Gallery, nelle corti della ristorazione e del gioco, sabato, domani, 24 novembre, dalle 12 alle 22, e domenica, 25, dalle 10 alle 20. Vi aspettiamo numerosissimi. A presto! Quindi, se non sapete cosa fare, c'è un bel weekend da passare a gioco a Torino 2012. Tra l'altro, noi seguiremo l'evento con le nostre telecamere, quindi poi, nelle edizioni della settimana prossima, vi riporteremo le immagini e anche la gioia di molte persone che andranno a seguirlo. Ora, invece, cambiamo...